Bella ragazzi, sono Daryl e sono tornato con un nuovo gameplay sul canale dei Grananas e sono ancora da solo perché, come avete visto, Xenic purtroppo ha avuto mamma mia, come uno è salvata, comunque purtroppo ha avuto dei problemi con il PVR, quindi non è riuscito a fare il video, poverello e quindi sono di nuovo io qui e vi porto appunto questo gameplay sul gioco delle armi dove appunto sclererò il più possibile perché questo gioco mi fa sclerare veramente tanto, tanto, tanto però già comincio a non trovare nessuno, cominciamo bene insomma qua già sto perdendo, oh vieni dai, stronzo allora mamma mia, Daryl attenzione me la sento che lo vinco, lo vinco, lo vinco tutto 3 a 2, cioè 3 a 2 nel senso, sto vincendo 3 a 2 rispetto al secondo con questo gioco, mamma mia quanto le rosicate quando lo facevo su Black Ops 2 mamma mia dunque ragazzuoli, come avete potuto vedere se avete letto la pagina Facebook aspetta che c'è questo, mamma mia stiamo organizzando questo evento il game, eh sì, ecco, già sbaglio il Roma Cube e vi voglio numerosi, voglio che venite lì e ci conosciamo insomma perché passiamo un bel pomeriggio tutti insieme poi avrete tutti i dettagli su come comprare i biglietti tutto quanto comunque se volete altri dettagli andate anche sulla pagina Facebook attenzione Daryl è in serie Daryl qua, eh attenzione e quindi se volete venire vi farebbe molto piacere appunto acqua mi ammazza vabbè per forza sono 2 dunque è buono, dai 7 a 5, sto vincendo sono primo mamma mia dove stai? stronzo va bene ora ti venga a cercare o me sarà di piacere dietro mamma mia ma come mi sono salvato no come non sei morto più che altro ancora un tweet marker cioè scusa eh è namo però oh oh ha impatto lo prende mamma mia che partitona che partitona cioè adesso faccio proprio i quick qua oh 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 mamma mia mamma mia lo faccio nero li faccio neri li faccio neri capirai pure il remington adesso proprio a bomba a bombazza attenzione 13 13 cazzo cazzo bulldog di merda vaffanculo da dietro no così eh e dai però c'è dietro sta qua dove sei andato oh oh e vabbè ma st'arma fa schifo ma che cos'è che cosa che cos'è questo schifo e vabbè e vabbè molti pivo eh aia 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 madonna ma perché te sei girato perché sei un lezzo sei un lezzissimo quest'arma ci passo gli anni lo so eh ole azione anche qua mamma mia che schifo che fa quest'arma ma quanto rincula dai così su dove siete fatevi vedere brutte merda questo sta sopra dai oh aia dove cazzo siete eccolo mamma mia che schifo di arma come dite cioè no 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 regà non si può ammazzare sta arma fa veramente cagare fa veramente cagare troppo cioè ma come l'ammazzo niente qua mi blocco non vado avanti e fu così che dopo l'intera partita in testa dare il perse cioè mi ha superato ci posso credere c'è me lo trovo lo trovo forse davanti dai su un coglione che si fa ammazzare dai lo trovo olè ho trovato il coglione se vabbè passiamo proprio da la abbraccia ma mi spieghi l'acog su ste pistole a cosa serve benissimo ho perso comunque ragazzi la partita è finita vi lascio vi chiedo di lasciare un like a questo video e sulla pagina facebook se vi è piaciuto il video aggiungere anche i preferiti noi ci vediamo alla prossima e bella ciao